Nicola, forse il sogno di molti giocatori è entrare, essere subito decisivo, segnare subito. Poi però dopo il tuo gol non è arrivato il successo che il Teramo aspettava. No, esatto. Sarebbe stato veramente un sogno poi riprenderla e ribaltarla così. Però siamo molto dispiaciuti perché comunque abbiamo visto tanta gente oggi che è venuta a sostenerci, ha cantato fino alla fine. Forse dovevamo essere un po' più affamati sull'impatto alla partita, però comunque abbiamo dimostrato di volerla riprendere a tutti i costi. L'abbiamo attaccato fino alla fine, abbiamo avuto un'occasione penso a 20 secondi dalla fine. Ci abbiamo creduto, peccato, però abbiamo ancora due partite davanti. Abbiamo domenica una partita in casa e speriamo di regalare questa gioia ai tifosi che verranno sicuramente numerosi. Penso che stiamo facendo qualcosa di straordinario che non è scontato assolutamente. Ormai si dava per scontato il fatto che il Teramo arrivasse fino a questo punto. Secondo me non è stato così scontato, mi ha fatto una settimana, secondo me stratosferica, perché comunque arriviamo da due vittorie difficilissime a Vasto e in casa con l'Angolana. Abbiamo fatto tre partite in una settimana, per carità c'è stata la sosta di Pasqua, però ricordiamo anche che tra febbraio e marzo abbiamo giocato veramente ogni tre giorni, penso per un mese, un mese e mezzo, tra Coppa e Campionato, quindi ci sta comunque a accusare un po' di stanchezza. Però ci dà sicuramente forza e tanta carica il fatto di vedere così tanti tifosi che ci seguono. Nelle ultime partite ho segnato, se non sbaglio, tre gol, quindi sono molto contento, ma più che a livello personale, di aiutare la squadra per arrivare a questo obiettivo che ormai è sempre più vicino. Sto bene, mi trovo bene, mi trovo bene col modo di giocare, col modo di vedere calcio del mister, mi trovo bene con i ragazzi, mi sono ambientato penso alla grande, quindi sono contento di dare questo contributo. La festa è solo rimandata perché adesso comunque manca un punto. Sì, 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 è solamente rimandato, ovviamente noi domenica giocheremo sicuramente per vincere, non per fare questo benedetto punto. Noi vogliamo vincere, vogliamo sicuramente arrivare a fare più punti possibile e vogliamo festeggiare con i nostri tifosi.